E' stato pubblicato il report per quanto riguarda il 2014, secondo l'osservatorio ambientale quali sono i dati più rilevanti? Secondo noi i dati più rilevanti sono innanzitutto che la qualità dell'aria in questo comprensorio è assolutamente dentro i limiti di legge. Questo però non garantisce la tutela della salute perché ci sono degli inquinanti che possono essere pericolosi anche se sono al di sotto di quelli che sono i limiti di legge. Complessivamente quello che è emerso è che c'è una situazione stabile, simile a quella degli anni precedenti, in cui l'area urbana di Civitavecchia misura una quantità di polveri che è circa un 30% maggiore dell'area dei comuni circostanti, Tarquini, Allumiere, Tolfe eccetera. Quest'anno per la prima volta il nostro report ha pubblicato anche dei dati sulle condizioni di salute della popolazione, sono i dati di mortalità e di ricoveri ospedalieri e anche lì si è confermato quello che già si sapeva da altri studi, cioè che a Civitavecchia c'è una mortalità, adesso non ricordo precisamente, circa il 10% in più che nel territorio circostante. Ora si tratta di capire se questa mortalità è dovuta all'inquinamento pregresso, cioè quello degli anni precedenti, Civitavecchia ha una storia di esposizioni ambientali molto lunga, oppure esiste ancora un fattore di rischio per cui i cui effetti noi misureremo negli anni futuri. Ecco, noi stiamo lavorando, mettendo in piedi dei nuovi studi con l'Istituto Superiore di Sanità e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche per poter capire se ancora ci sono dei fattori di rischio su questo territorio oppure no. L'area di Civitavecchia più impattata è quella costiera a nord, diciamo l'area intorno a Fiumaretta, tanto per capirci, e lì si vede chiaramente che c'è un'influenza, la sorgente predominante sono le attività portuali, che non significano soltanto le navi ma anche attività di movimentazione, eccetera. Un inquinamento analogo ce l'abbiamo nella parte alta di Civitavecchia, cioè che essendo un po' più alta sul livello del mare subisce sostanzialmente due influenze. Un'influenza dalla parte bassa, cioè l'area di inquinamento che sta lungo la costa, che si disperde verso l'alto e quindi va a contaminare la parte più alta. E nella parte più alta è possibile, ma questi sono solo indizi a cui spereremo di dare certezza nel prossimo anno, è possibile che lì si senta anche un'influenza della centrale a carbone. Ci sono degli indizi che ci fanno supporre questo. Nella parte invece, diciamo, più a sud di Civitavecchia, zona costiera, per capirci la zona di San Gordiano, Campo dell'Oro, l'inquinamento è un po' più basso, diciamo un 15-20% più basso, e lì la sorgente predominante appare sicuramente il traffico automobilistico.